Buongiorno e buon lunedì 21 ottobre. È stata dura ieri sera, dopo il pareggio del Milan con Lecce. Milan, che era andato in vantaggio, raggiunto in vantaggio all'ottantesimo minuto, realizza un bellissimo gol grazie a un tacco delizioso di Cialanoglu e il gol alla Piontek di Piontek. Sembrava finito, il Milan pur con qualche affanno sembrava controllare. Poi è arrivato il pareggio con un gran tiro, molto bello, di Calderone che ha infilato Donna Roma. Ho voluto rivedere l'azione ieri sera, questo passaggio tutto sommato, hanno detto Suso ha dato un pallone a Biglia, Biglia l'ha perso, ma poi la palla è andata tutto da un'altra parte, cioè non è che sia stato Biglia a perdere un pallone, è andata tutto da un'altra parte. L'Iteo Hernandez, stanco come Biglia, non è riuscito a controllare la palla, che è tornata ancora verso il centro del campo, vicino all'area, Calderone ha indovinato un bellissimo tiro. Allora ho rivisto quest'azione, mi son rimesso per non andare a letto, ho rivisto per l'ennesima volta il buono, il brutto e il cattivo, mi son messo di sdraiato e svuotato, sdraiato e svuotato e per consolarmi ho rivisto ancora il buono, il brutto e il cattivo, film di Sergio Leone che ho visto nel cinema Missori una vita fa, negli anni sessanta. non so più che cosa pensare, sono cambiati allenatori, dirigenti, giocatori, pure il Milan pareggia col Lecce, pareggia col Frosinone, perde col Benevento o pareggia col Benevento e perde col Frosinone, pareggia col Carpi. Incredibile, una partita che il Milan doveva vincere, ha giocato anche bene nel primo tempo, mostrando un gioco veloce, però c'è qualcosa che non va. Nessuno riesce a capire che cosa non vada. Gli stessi errori, le stesse paure, con mille allenatori diversi, con mille proprietà diversi, con mille giocatori diversi, perché il Milan che pareggia 3-3 col Frosinone, Milan di Brocchi erano ben lontani, sono passati anni da quel Milan che pareggia 3-3 col Frosinone, eppure pareggia 3-3 col Frosinone come ha pareggiato 2-2 col Lecce. Brocchi non c'entra nulla con Pioli, c'era, mi sembra Balotelli, e il Milan pareggia col Lecce. Una squadra che l'ha stata dominata nel primo tempo, ma poi ha sfruttato le paure, è bastato un fallo di mano di Conti per ridare coraggio al Lecce. Poi si dirà che il Lecce abbia giocato un buon secondo tempo, io non ricordo parati di Donnarumma, ricordo un palo di Cialanoglu, ricordo un tiro che ha sfiorato il palo di Cialanoglu, ricordo un'occasione di Leao, quindi anche nel secondo tempo, meno brillante che nel primo, ancora delle occasioni, era il Lecce, che ha comunque mai mollato, venendo avanti anche con tentativi interessanti, ma che non hanno mai impensierito il portiere Donnarumma. C'è qualcosa che non va, non riesco a capire che cosa. Squadra paurosa, ma non sono gli stessi giocatori che hanno pareggiato 0-0 col Carpi, eppure le stesse paure, le stesse insicurezze. C'è qualcosa che non riesco a, che sfugge, che sfugge ad allenatori, giocatori e dirigenti. Questa paura, questa, questo, questa, questa cosa esoterica che circonda il Milan. Si via Suso, basta biglia. E allora, quando si pareggiava col Carpi o col Frosinone, c'era Suso e c'era biglia, però aveva le stesse difficoltà, le stesse incertezze, le stesse paure. E' questo che mi, che mi, che, che mi tormenta. Perché non riesco a capire che cosa ci sia? Solo i giocatori. può darsi tutti scarsi, tutti un disastro. Ci sono quindici nazionali nel Milan, tutti un disastro. E c'erano anche gli anni scorsi nazionali, ma tutti un disastro e siamo ancora qui a vedere un Milan al dodicesimo posto con dieci punti. Tre vittorie e un pareggio. E quattro sconfitte se non erano. Non se ne esce. Non se ne esce. Poi la gente, Pioli Out, via Pioli, doveva rimanere Giampaolo, doveva rimanere Gattuso, doveva rimanere Allegri, doveva rimanere Zedor, doveva rimanere Inzaghi, Miajlovic, Brocchi, Montella. Dovevano rimanere tutti. Dovevano andare via tutti. E siamo sempre qui. Ho già preso il treno per Roma. Parto per Roma. Aspettando che cambi qualcosa. Che il Milan vantaggio al primo tremito di Froglia non perda la bussola della partita. Immagino anche i giocatori, dopo una buona partita, immagino anche l'allenatore. E poi si ritrovano ancora con un punto. Dopo aver giocato quella partita, neanche questa volta il Milan è andato sul 2-0. Con occasioni. Poi para il rigore Donnarumma, ma poi ce l'ha respinta. Domenica scorsa, due domeniche fa, l'errore di Reina. Per fortuna rimediato poi dal rigore di Chessi e dal gol di Teo Hernandez. Abbiamo visto delle buone individualità. Ne parleremo nel corso della giornata di singoli. Però ieri ora sono rimasto seduto a vedere per l'ennesima volta il buono, il brutto e il cattivo. È stata dura andare a letto. Per rivivere i soliti lunedì, con i soliti tifosi arrabbiati, i pioli qui, out, 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 tutti out. Tutti out. Non voglio più vedere nessuno out. Qualcuno dovrà pur giocare. Mi piacerebbe vedere le formazioni. Ognuno mette il suo. Poi quando gioca bene a Serra, allora è meglio Biglia. Quando gioca a Biglia è meglio bene a Serra. Che se non lo voglio più vedere poi invece che si diventa fondamentale. Sempre la solita zuppa. Ma come dicono i tedeschi senza salz, senza sale in questa zuppa. Questo sale della vittoria. Vedremo. C'è Pioli. Pioli è in. Pioli non è out. Perché se è anche Pioli out rimaniamo senza allenatori. Non c'è problema ne prendiamo un altro. Poi ci sarà l'out. Vediamo. Vediamo. Ne parliamo ancora nel corso della giornata. Ma è dura. Molto dura. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti che ha visto ancora una volta pur di mandare a letto il buono, il brutto e il cattivo.